Ti vedo in forma oggi. Eh sì, scoppio di salute. Ti è piaciuta la mia ultima freddura? Sì, mi ha steso. Quando ieri, alla festa, quel bel ragazzo che stava mangiando la pizza ha attaccato bottone con me, eri geloso? Ad essere sincero sì, anche io avrei voluto mangiare la pizza. Come mai ti sei messo il sombrero? Perché in questa spiaggia sono ammessi cani. Mario ha regalato un anello a Sofia. Perché tu mai niente? Scusa, perché dovrei farle dei regali? Neanche la conosco. Mi togli sempre il fieno. Sei un rompiballe. Abbiamo praticamente tutto sul nostro menù. Lo vedo. Adesso però me ne può portare uno pulito? Come mai ti sei vestito così? Perché sono un cappuccino. Usciamo insieme? Sì, sono libera il 30. Di che mese? Di febbraio. Secondo te, quando moriremo? Quando lo uccise Romolo. Mi hanno detto che lavori in discoteca. Sì, faccio la cubista. Come si trova l'area del quadrato? Beh, prima di tutto bisogna ricordarsi dove la si è persa. Cara, ma se un giorno me ne dovessi andare, qual è la prima cosa che faresti? Cambio la serratura. Cosa stai mangiando? Una galletta. Cannibale! Da piccoli i miei genitori cambiavano casa spessissimo. Per fortuna sono sempre riuscito a trovarli. Dottore, soffro di personalità multipla. La prego, aiutateci. Oggi mi hanno scacciato dal lavoro. Come mai? Perché c'era lo sciopero. Adoro mangiare questi fiori fritti. Cosa? Tu li pani? Marionetta, vuoi dire qualcosa al pubblico? Sì, vorrei raccontare una barzelletta sui carabinieri. Basta, non se ne può più con queste barzellette su di noi. Sono solo stereotipi. Che rapporto ci può mai essere tra la professione di un uomo e la sua intelligenza? È per colpa vostra che la gente ha dei pregiudizi. Noi siamo persone intelligenti come tutti. Oddio, mi scusi. Lei non si mischi, sto parlando con quel piccoletto che sta sulla sua mano. Come si chiama la parte del viso sotto la bocca? Mento? No, dai, dimmi la verità. Mi piaci perché sei un tipo incisivo. È tre giorni di fila che sogno l'elettricista. Quindi è un sogno ricorrente. Chi ha fatto fuori Kenny? Mr. Stumble, Inferno Dragon oppure Captain Goldheart? Io non sono stato, stavo tagliando i pomodori. Io ero dal dottore perché ho la gola infiammata. Io mi stavo allenando al poligono di tiro. Ah, non scordatevi di mettere like a questo video perché a 16.000 sbloccherete una nuova compilation. Amiche e amici, tenetevi forte perché il 4 ottobre uscirà il mio novissimo libro Ridia Creepy Pelle. Potete già prenotarlo in tutte le librerie e online. Non perdetevelo. Mamma, non aspettiamo papà per mangiare? Se avessi aspettato tuo padre, tu non saresti nato. Grazie. 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 Grazie.